L'anarchia Ma adesso andiamo subito a parlare dell'arma Innanzitutto il suo perk esotico ci permette di far appiccicare le granate alle superfici che si concatenano con fulmine d'arco causando molti danni in poco tempo Grazie a questo suo perk l'arma trova un'applicazione migliore in PvE In quanto questa è abbastanza buona per fare danno contro i boss che rimangono bene o male fermi In quanto ci basterà creare una trappola con le granate che causeranno danni nel tempo al boss Inoltre mentre le granate fanno danno possiamo aumentare quest'ultimo con un pompa con canna forata o con una qualsiasi altra arma che non sia pesante Il che ci permette di fare danno con due armi diverse Abbiamo tuttavia confrontato l'anarchia con la sua gemella ovvero il mille voci E di base 6 colpi di anarchia che è il massimo che possiamo sparare da un solo lanciagranate Infatti sparando più di 6 colpi quelli precedenti verranno distrutti Il danno del mille voci è quasi il doppio di quello dell'anarchia Combinando invece due di queste armi e quindi piazzando una trappola da 12 colpi In più facendo danno con i pompa con canna forata e mettendo anche la pozza dello stregone Siamo riusciti a fare un milione e centomila circa di danno a testa Tuttavia il danno che facciamo con l'anarchia è dettato da come posizioniamo le granate Questo perché ogni granata si concatenerà alle altre E in base a come le piazzeremo le scie che collegheranno queste potranno incontrarsi o meno in un punto L'ideale sarebbe farle incontrare tutte in un punto in modo tale da massimizzare il danno al boss Questa diciamo che è una delle pecche di quest'arma sia per il pvp che per il pve Dato che comunque bisogna piazzare i colpi abbastanza velocemente E il tempo per creare una forma idealmente perfetta non c'è Per lo stesso motivo l'arma può essere buona come non buona per quanto riguarda la pulizia Dato che mediamente con tre colpi dovremmo riuscire a creare una vasta area di danno Ma che se pensati male potrebbero essere poco efficaci Per quanto riguarda il pvp l'arma è sicuramente molto divertente da usare ma altrettanto difficile Dato che per uccidere un nemico dobbiamo sparare almeno due colpi Mentre per andare sul sicuro dovremmo spararne tre Il che ci richiede molto tempo Se in più cerchiamo di spararli nel modo corretto Quindi creando una posizione favorevole al nostro danno È quasi sicuro che verremo uccisi dal nemico Magari portandoci a casa la kill ma sicuramente moriremo Per quanto riguarda le statistiche generali dell'arma Questa ha un rinculo veramente basso e una velocità di ricarica molto molto alta L'area di impatto è tuttavia bassa Mentre la velocità dei colpi è massima Ha un caricatore come ho già detto di 6 colpi e una cadenza di 150 colpi al minuto Inoltre per facilitare il posizionamento delle granate la maneggevolezza è anche molto alta Quindi ragazzi questa era la recensione dell'anarchia lancia granate Che come ho già detto potete droppare dal boss de shagura di passato Detto questo vi direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo Dito a tutti quelli che non conoscevi che c'è la talissima Sicuramente anche su Instagram, Facebook e come ogni video Vi lasciamo un po' sotto nella descrizione E anche del bellissimo, nuovissimo, fazzissimo sito E detto questo ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Io sono Gaud E la tua luce E mia